Un sogno iniziato a settembre, compiuto a maggio, segno che a volte essi si avvenano. Il prossimo anno Arezzo Calcio Femmini giocherà ufficialmente nel nuovissimo campionato professionistico di Serie B, ma prima dei meditatissimi festeggiamenti ci sono ancora due gare di campionato da giocare. Quest'oggi naspe in da cornice del comunale città di Arezzo, ma in scena la 29esima giornata del campionato nazionale di Serie B, l'ultima gara davanti ai tifosi arettivi dell'anno. Pializzo Calcio Femminile affronterà quest'oggi la novese, andata a finire 3-0 per l'Arezzo con la trivetta di carta. Siamo allo stadio sogno di ogni aretino, sentite gli applausi da tanta gente a colza quest'oggi per assistere alla festa delle ragazze a Maranto. Verdi, Verdi apre sulla destra per carta, attenzione a carta, stop a seguire, carta, il destro di carta, di di fiore, scusate, il gol di carta, il gol di carta che arriva al trentasettesimo. 1-0 di carta, il cross è arrivato al centro e poi carta face in face ha trovato il gol che ha sbloccato l'incontro. Sì, è stata bravissima a scavalcare la difesa, la Verdi, ha visto Mencucci libera sulla destra che si è inserita bene, è stata molto generosa perché non so quanti da quella posizione, perché si era defilata ma molto vicina alla porta. È stata bravissima a servire carta sulla sola al centro che ha solo dovuto poggiare la palla in porta. Baracchi, il tocco per Di Fiore, Di Fiore, palla sul destro, il tocco per Razzolini, poteva provare anche una conclusione da quella posizione, ma tanto bravissima Razzolini, il destro di Razzolini, 2-0 di Razzolini, sedicesimo gol stagionale per Costanza Razzolini, ed è 2-0 dell'Arezzo. Bravissima, qui Costanza a crederci su una palla persa, va a riconquistarla dentro l'aria, apre bene il piattone e la infila sul secondo palo, bravissima. Il lancio per Di Fiore, Di Fiore, Di Fiore va su a sinistra, Di Fiore, il gol! Il gol di Di Fiore, 3-0! 3-0 dell'Arezzo con Di Fiore che segna il suo tredicesimo gol stagionale. Si libera benissimo con il lancio da retrovie e segna il gol del 3-0 che chiude virtualmente la gara. Benissimo, bravissima Teci a trovare l'imbucata giusta, coi tempi giusti per una Di Fiore che si inserisce perfettamente, salta il portiere e appoggia in porta. Un'azione da Cineteca, segnano tutte e tre l'attaccante, è una grande festa, bravissime. Razzolini, guarda sul destro, il cross al centro per Carta! Che gol di Carta! 4-0 dell'Arezzo, doppietta per Carta, un gol straordinario quello di Isabella Carta che porta sul 4-0. Sì, bravissima Razzolini a pescare Carta in aria, bravissima, è stata veramente brava. Razzolini, Carta, splendido gesto tecnico, arriva in corsa al volo. Qui forse c'è da dire che il portiere della Novese poteva fare sicuramente meglio perché le passa sotto le gambe. Di Fiore si invogna verso la porta, Di Fiore, dalla su desto Di Fiore! 5-0! Di Fiore, doppietta personale, 14esimo gol e 5-0. Rischietto la bocca, tipice vischio. Dunque siamo arrivati al termine della nostra avventura con il calcio femminile per questa stagione. Sono tre anni che insieme a Arezzo TV seguiamo le imprese di queste ragazze della società di Arezzo Caccio Femminile e credo che mai come quest'anno siamo rimasti tutti uniti e coesi per questi colori, anche nei momenti di difficoltà perché è questo che i tifosi fanno. Con l'augurio di ritrovarsi insieme anche il prossimo anno, un saluto da Riccardo Buffetti, ringrazio Giorgia Casula. Grazie a te, al prossimo anno allora! Mister Lorenzini, quest'oggi è arrivata una vittoria 5-0 contro la Nuvese nello Stadio dei Sogni, nelle città di Arezzo, il Comunale. Ti aspettavi una gara del genere e che impressioni hai avuta di questo stadio? Beh, è il giusto regalo per queste ragazze che hanno condotto una stagione di primissimo livello. Erano un po' emozionate all'inizio, poi dopo col passare dei minuti sono sciolte, hanno dato vita anche, secondo me, a delle ottime trame di gioco, dei bellissimi gol. Quindi niente, è stata una giornata bellissima. Speravo fosse così, è arrivata così e quindi sono felicissimo per me, chiaramente molto molto felice per le ragazze. Avevo visto anche un grande pubblico negli spatti, segno che Arezzo Calcio Femminile è arrivata alla gente di Arezzo. Sì, era proprio quello il messaggio che volevamo dare, far appassionare le persone di Arezzo al calcio femminile. Penso che oggi abbiamo avuto la dimostrazione che tutto ciò è avvenuto, insieme poi alla grande soddisfazione che c'è stata ieri della salvezza dell'Arezzo. Per cui, insomma, è una grande giornata di festa. Ecco, è stato il saluto poi a fine gara da parte delle ragazze e al pubblico. Qua è stata, secondo te, da allenatore, l'elemento in più che ha fatto scaturire l'Arezzo questa grandissima reazione, dopo un periodo difficile che aveva avuto anche nel primo arco di campionato. Sì, io credo l'unione dello spogliatoio, questa voglia comunque di primeggiare è stato quello che poi ci ha fatto superare dei momenti critici, andare avanti, stare serene, tranquilli, lavorare e poi i risultati sono venuti e anche, insomma, al di sopra di quelle che erano le più rose aspettative. Ultima domanda, domanda difficile, mister Lorenzini, il prossimo anno dove si vedrà? Dove si vedrà? Intanto ci riposiamo, poi abbiamo modo comunque di parlarne con la Presidente. Io sono felicissimo, sono stato felicissimo quest'anno di intraprendere questa avventura. È andata bene, sono soddisfatto, quindi se la società vorrà non ci sarà nessun problema, insomma. Siamo con Carlotta Moscia e Costanza Razzolini, partiamo prima da Moscia. Allora, quest'oggi è vittoria 5-0 con Tornovesse, nello stadio dei sogni di ogni aretino. Per te che vieni da fuori, come hai visto quest'oggi, questa partita, il pubblico anche presente? Pur venendo da Torino è comunque stato molto emozionante perché qua ad Arezzo sono in grado di coinvolgerti a pieno e farti sentire parte integrante di questa grande famiglia, quindi mi sono sentita un po' aretina anche io, nonostante venga da molto molto lontano. Oggi, parlando della partita, te l'abbiamo visto in un ruolo inedito, difensore centrale. Come è nata la storia di inserirti oggi in quella posizione di campo? È già un paio di partite che gioco in quella posizione per motivi di bisogno, perché c'è un po' di carenza, un po' di infortuni come ci sono tutti gli anni e io cerco di mettermi sempre a disposizione della squadra dove c'è bisogno. Andiamo un po' alla partita, nel 5-0 c'è anche Autofirma, il tuo gol, Standing Ovation alla fine, che emozione è stata? Beh, è una bella emozione, io sono un po' timida, se così si può dire, quindi non sono abituata a questo tipo di festeggiamenti, per esempio una Standing Ovation. Ho cercato di ringraziare a modo mio, spero nessuno se la sia presa, molto felice, molto contenta, pubblico fantastico, è stata una bella partita e una bella emozione. Come valuti la tua stagione quest'anno ad Arezzo? Prima stagione, poi c'è stato tanti gol, un infortunio che ti ha un po' rallentato, ma poi ti abbiamo rivisto ripartire davvero la grande. No, è stata una stagione sicuramente bellissima, purtroppo l'infortunio mi ha tenuto fuori un paio di mesi, ho saldato quattro partite, quindi mi dispiace, ma anche se, sì, di gol non fatti, 15-16, quindi va bene, però ne abbiamo fatti tanti, anche con Di Fiore, Carta, quindi va benissimo così, anche se non segno, andava bene lo stesso, l'importante era vincere. Ah, siamo con l'Arice Antonelli, estremo difensore da Arezzo Calcio Femminile, quest'oggi il saluto al pubblico, al Comunale di Città di Arezzo dopo una grande vittoria. Sì, è stata una bella vittoria, è iniziata una partita un po' complicata, perché il caldo, un po' l'emozione, però siamo riusciti a sbloccarci, abbiamo fatto una bella partita per il pubblico, insomma, è un bel regalo anche per noi e per loro. Abbiamo visto l'autrice di un gran campionato, anche di grandi parate, forse la migliore in rigore parato contro il Torino che poi ha dato la scossa a tutta la squadra. Sì, e quello è stato un po' la miglior parata, insomma, dell'annata, anche perché proprio eravamo sotto di un gol, andare sotto di due, poi da lì è partita la rimonta e poi la vittoria. Poi da lì abbiamo fatto un buon campionato.